Grazie all'associazione Bobbio che organizza queste attività veramente meritorie e soprattutto l'Università della Politica che ci consente di fare delle riflessioni in maniera sistematica su temi attuali e a volte anche tra virgolette inattuali nel senso che ci consentono di approfondire dei temi che non sono nella attualità più, ma questo è un merito, non è un demerito. E poi continua sempre questa collaborazione tra Istoria e la Bobbio su tanti versanti, noi quando faremo adesso il corso di geopolitica ci sarà sicuramente una lezione in collaborazione stretta con la Bobbio e poi questa collaborazione è stata anche notata nei nostri ambiti universitari perché il corso di banca e finanza dell'Università di Udine a Pordenone che adesso è strutturato a Pordenone con un corso di laurea triennale e poi anche col corso di laurea specialistica e questi corsi di laurea hanno chiamato Istoria e la Bobbio a fare un'attività importante per gli studenti di banca e finanza, cioè delle lezioni di non solo finanza. Questo ha dimostrazione che le conoscenze sulla politica internazionale, le conoscenze sulla geopolitica, le conoscenze sulla filosofia politica sono fondamentali per capire il presente e anche addirittura incredibilmente i mercati finanziari e quindi per aprire un po' le prospettive di questi studenti del corso di banca e finanza qui a Pordenone che sono molto diligenti ma secondo me hanno un piccolo difetto nel senso che sono concentrati solo ed esclusivamente sull'aspetto economico-finanziario, invece oggi ormai anche occupandosi di economia e di finanza bisogna sapere qualcosa di più per capire cosa sta succedendo e anche questi studenti usufruiranno dell'attività di Istoria e della Bobbio. E tra l'altro proprio in questo semestre è il semestre di competenza della Bobbio quindi mi pare il lunedì mattina ci sono delle interessanti conferenze dalle 12 alle 13.30 a Pordenone in università nel polo universitario di Via Prasecco. Questo ha dimostrazione che la società civile, il mondo scientifico, l'università si è accorto di questo fatto che ci sono queste due associazioni che da tanto tempo, Istoria da 30 anni, la Bobbio da 10-15, 15 quant'è? 10, si occupano in maniera sistematica di temi che sono molto importanti e che addirittura l'università sfrutta queste competenze e questa capacità. Oggi vorrei solo, faccio un piccolo intervento in apertura perché mi fa piacere sottolineare l'importanza di questi temi in particolare gius naturalismo di Grozio, OBS ma pensiamo anche all'anno scorso, anni fa, a Max Weber per tanti altri riferimenti di sociologia, di filosofia applicati alla politica e OBS è direi essenziale al giorno d'oggi perché quello che sta succedendo con riferimento al tema del potere è molto collegato con alcuni aspetti del pensiero di OBS che viene considerato il teorico dell'assolutismo ma anche il teorico della nascita dello Stato e del potere che ha lo Stato e sotto questo profilo OBS ha dettato le categorie dei concetti fondamentali di concetti fondamentali tra i quali il tema per esempio della sovranità che è un tema oggi all'ordine del giorno sul versante per esempio del rapporto tra Stati membri dell'Unione Europea e Unione Europea ma non solo, c'è proprio il tema che è un tema caro a uno studioso di OBS, di Schmidt cioè Karl Schmidt, cioè il tema del nomos della Terra di quali sono le regole che dominano nel pianeta cercano di mettere un minimo di ordine nel pianeta e qui sotto questo versante c'è un'importante radice e contributo di OBS che viene sfruttata da Schmidt nell'analogia tra il concetto di sovranità e l'onnipotenza di Dio cioè la sovranità anche da un punto di vista poi giuridico consente di dettare, praticamente di risolvere tutte le problematiche relative alla vita e alla morte dei cittadini su uno Stato quindi ecco qui l'origine poi anche mostruosa di questo potere, il leviatano e Schmidt sottolinea una corrispondenza tra sovranità e onnipotenza di Dio questo tema viene un po' condensato in Schmidt in uno studio, in uno schema molto bello, simpatico viene chiamato il cristallo però questo cristallo di OBS che è il risultato dello studio di Schmidt sebbene si presenta come cristallo può sembrare anche molto semplice in realtà Schmidt che non era l'ultimo arrivato dal punto di vista dello studio del diritto e anche del diritto applicato al potere ci dice che lui l'ha studiato tutta la sua vita e tutta la sua vita il risultato di questo studio sul cristallo questo cristallo che spiega un po' questo collegamento che poi viene anche a che fare con due volumi di Schmidt che sono la teologia politica e cioè che spiegano questi due volumi come in realtà i concetti politici di oggi non sono altro che una versione secolarizzata di concetti teologici di concetti teologici abbiamo già detto sovranità e onnipotenza di Dio questo tema si complica oggi perché poi il tema della sovranità Schmidt anche lo declina con riferimento alla sovranità popolare e quindi le cose diventano un pochino più complicate pensando anche sempre qui in una chiave di attualità al tema del populismo oggi ma la cosa interessante di questo cristallo di Hobbes è il fatto che ci fa fare delle riflessioni sull'autoritas, sulla potestas e poi cioè sull'autorità, sul potere e poi ci arriva a sottolineare il fatto che è molto importante il momento dell'interpretazione e poi questo momento dell'interpretazione di questi concetti si apre alla trascendenza si apre alla trascendenza quindi per esempio nella decisione che è il momento centrale del pensiero di Schmidt c'è si dice l'irrompere del sacro nella nella politica per certi versi allora che cos'è quindi questa rilevanza questa importanza del pensiero di Hobbes così interpretato da da Schmidt intanto i periodi sono diversi Schmidt è ovviamente un pensatore un grande pensatore giurista del novecento e ci dice quindi come abbiamo già un po' cercato di spiegare questo reimpiego dei concetti teologici nella modernità però che è caratterizzata dalla assenza della trascendenza la modernità quindi vedete un pensiero profondamente moderno che però si richiama al pensiero teologico e poi arriva a spiegare un po' questa teologia politica se Schmidt ha detto che lui ha studiato per tutta la vita Hobbes io ho studiato per tutta la vita Schmidt e qualche giorno fa ho iniziato a capire qualcosa della teologia politica ecco quindi e allora la teologia politica poi per Schmidt è coazione a fondare un ordine nell'assenza di un ordine cioè questo uso di concetti teologici fa sì che nell'era diciamo dell'assenza della trascendenza il tentativo tragico è quello di fondare un potere in maniera razionale senza più la trascendenza un potere molto forte come quello sempre del Leviatano e su queste cose c'è un altro pensatore contemporaneo che abbiamo spesso la fortuna di avere qui a Pordenone che chiamiamo anche al corso di geopolitica che è Massimo Cacciari che anche recentemente questo è un lavoro del 2013 abbiamo avuto l'occasione di presentare ha posto l'attenzione su queste cose sul potere che frena sul potere che frena sul concetto di catecon sono tutte cose vedete che sembrano molto difficili teologia politica catecon non ne parliamo sovranità che corrisponde all'unipotenza di Dio però in realtà bisogna fare un piccolo sforzo poi alla fine si capisce che sono tutti collegati questi temi l'ultimo tema quello del catecon è a che fare anche qui con ovviamente il pensiero che si ricava dalla Bibbia che si ricava dai Vangeli dell'Apocalisse ed è il tentativo di un soggetto che è il catecon colui che trattiene e cioè un soggetto che prima che arrivi la diciamo l'anticristo anticipa l'arrivo dell'anticristo e prima che arrivi l'anticristo cerca di trattenere di salvare il salvabile di salvare il salvabile del potere della forma del politico cerca di salvare quel minimo di ordine che c'è ecco su questo versante questo catecon si può interpretare in maniera diversa anche attraverso il pensiero di di Cacciari un po' può essere rappresentato anche dalla Chiesa Cattolica un po' può essere rappresentato addirittura dalla democrazia rappresentativa e oggi col tema del populismo questo è di grande attività è di grande attualità perché la democrazia rappresentativa viene oggi letta con il tema del populismo in contrapposizione a una ipotesi di democrazia diretta di collegamento diretto tra il leader e il il popolo un collegamento immediato non mediato questo è il Vodiamanti per esempio insieme a Mark Lazar che hanno scritto popolocrazia quindi un collegamento immediato nel senso che avviene senza la mediazione dei corpi intermedi ma addirittura dei giornalisti ma addirittura della democrazia rappresentativa perché ormai vedete che i leader parlano da Trump a a Salvini a Grillo a Di Maio anche ai nostri politici parlano direttamente anche passato poco tempo fa a Renzi parlano direttamente attraverso Twitter attraverso queste forme così sintetiche di comunicazione ma hanno un rapporto quotidiano e questo tipo di rapporto quotidiano si vorrebbe sostituire alla democrazia rappresentativa quindi capite come solo attraverso questo collegamento Hobbes Schmidt Cacciari tutti questi temi dei quali discutiamo oggi siano profondamente attuali e ci aiutino a capire che cosa sta succedendo allo Stato alla forma del politico a quella allo Stato che è la forma del politico rimasta diciamo dopo l'impero dopo che sicuramente il tentativo del diritto internazionale di creare un ordine con le Nazioni Unite e così via mostra dopo la fine della guerra fredda dei diciamo momenti di grande criticità e difficoltà e quindi vediamo come la forma del politico che oggi è rappresentata dallo Stato e che è quello che un minimo gli stati nella comunità internazionale sono quelli che danno un minimo ma proprio un minimo di ordine a quello che sta accadendo e che come vedete basta pensare oggi al Venezuela per esempio e dimostrando tutta la incapacità della cosiddetta comunità internazionale di riuscire a dare un nomos alla terra e dall'altro lato dimostrano anche l'incapacità comunque degli stati a meno che non siano stati molto forti come le superpotenze quindi pensiamo alle tre grandi superpotenze che ci sono oggi gli Stati Uniti la Cina e anche un po' più indietro la Russia sono quelli che attraverso così un dialogo a volte che assorge alle riunioni nel Consiglio di Sicurezza a volte non è un dialogo perché basta che uno di questi tre sventoli il veto il potere di veto sulle decisioni del Consiglio di Sicurezza e quindi si blocca tutto la comunità internazionale non riesce a rispondere alle crisi internazionali quindi tutte queste cose di oggi sono veramente che studiamo oggi sono di una grande attualità di una grandissima importanza e solo la Bobbio ha la capacità qui a Pordenone di fare queste riflessioni così approfondite su questi temi che come ho cercato di dirvi sono estremamente utili grazie